Fondazione Bracco e Secreters Voice insieme a favore delle donne in occasione di Expo 2015. La collaborazione si realizza anche nello spazio Women for Expo all'interno del Padiglione Italia, dove l'associazione presieduta da Flavia Curti organizza il progetto International Cooperation Event Voices from the Female World. Noi vogliamo portare avanti il tema cambiamento culturale e sociale attraverso la formazione delle bambine. Questo è il grande tema. Non escludere dalla educazione e dalla formazione le ragazze, parliamo di paesi più sfortunati del nostro, perché da lì passa il cambiamento. In quest'occasione lo scultore cinese Xu Hongfei, considerato dalla critica internazionale uno dei maggiori artisti contemporanei cinesi, ha donato alla presidente Diana Bracco una scultura in bronzo, una donna a cavallo che, dice l'artista, vuole rappresentare l'armonia del genere umano con la natura. Il 90% delle mie opere rappresentano le donne. Le donne sono fondamentali nella nostra vita. Ho scelto di rappresentare le chubby women perché credo che in queste donne non si guardi solo la bellezza di fuori, ma si può sentire l'energia, la vita e la gioia. Attraverso la forma grande possiamo sentire la vivacità e l'energia di queste figure.